Segreti onirici dei gatti. Cosa nascondono i sogni dei nostri amici pelosi? I gatti sono animali affascinanti, e anche i loro sogni sono fonte di mistero. Sappiamo che i gatti sognano, proprio come gli umani, ma cosa sognano esattamente? Quali sono i loro segreti onirici? I gatti sognano? La risposta è sì, i gatti sognano. Gli studi hanno dimostrato che i gatti sperimentano il sonno REM, che è la fase del sonno in cui si verificano i sogni. Durante il sonno REM, i gatti possono muovere gli occhi, miagolare, soffiare o anche svegliarsi di soppressalto. Questi comportamenti sono tutti segni che il gatto sta sognando. Cosa sognano i gatti? È impossibile sapere con certezza cosa sognano i gatti, ma possiamo fare delle ipotesi basandoci sul loro comportamento e sulla loro natura. I gatti sono animali predatori, quindi è probabile che i loro sogni siano spesso incentrati sulla caccia. Potrebbero sognare di inseguire prede, di catturarle e di mangiarle. I gatti sono anche animali curiosi e avventurosi, quindi è possibile che i loro sogni siano incentrati sull'esplorazione. Potrebbero sognare di arrampicarsi sugli alberi, di cacciare in nuovi luoghi o di fare nuove amicizie. Inoltre, i gatti sono animali molto emotivi, quindi è probabile che i loro sogni riflettano anche i loro sentimenti. Potrebbero sognare di essere felici, di essere spaventati o di essere arrabbiati. Incubi felini. I gatti possono anche fare incubi. Se un gatto si sveglia di soprassalto e sembra spaventato, è possibile che abbia fatto un incubo. I motivi per cui i gatti fanno incubi possono essere vari, come un'esperienza traumatica, un cambiamento nell'ambiente o semplicemente un sogno particolarmente vivido. Come interpretare i sogni dei gatti? Non esiste una scienza esatta per interpretare i sogni dei gatti. Tuttavia, è possibile farsi un'idea generale del significato dei sogni felini osservando il comportamento del gatto durante il sonno. Ad esempio, se un gatto sogna di cacciare, è probabile che si senta energico e in forma. Se sogna di esplorare, è probabile che si senta curioso e avventuroso. Se sogna di essere felice, è probabile che si senta soddisfatto e amato. Naturalmente, è importante ricordare che i sogni sono soggettivi e che ogni gatto ha i propri sogni. Quello che è significativo per un gatto potrebbe non esserlo per un altro. Conclusione. I sogni dei gatti sono un mistero affascinante. Anche se non possiamo sapere con certezza cosa sognano, possiamo fare delle ipotesi basandoci sul loro comportamento e sulla loro natura. I sogni dei gatti sono un modo per conoscere meglio questi animali misteriosi e affascinanti. Alcuni esempi di sogni felini. Un gatto che sogna di inseguire un topo potrebbe rappresentare il suo istinto predatorio. Un gatto che sogna di arrampicarsi su un albero potrebbe rappresentare il suo desiderio di esplorare. Un gatto che sogna di giocare con il suo umano potrebbe rappresentare il suo bisogno di affetto. Un gatto che sogna di essere spaventato da un cane potrebbe rappresentare una paura o un'inquietudine. Come aiutare il tuo gatto a dormire bene. Per aiutare il tuo gatto a dormire bene, assicurati di creare un ambiente tranquillo e confortevole. Il tuo gatto dovrebbe avere un posto tranquillo dove dormire, lontano da rumori e luci forti. Assicurati che il tuo gatto abbia accesso a cibo e acqua freschi, e che non sia disturbato durante il sonno. Ecco alcuni suggerimenti per aiutare il tuo gatto a dormire bene. Assicurati che il tuo gatto abbia un posto tranquillo e comportevole dove dormire. Mantieni l'ambiente della stanza buio e silenzioso. Elimina eventuali fonti di luce o rumore che potrebbero disturbare il sonno del tuo gatto. Assicurati che il tuo gatto abbia accesso a cibo e acqua freschi. Non disturbare il tuo gatto durante il sonno.